Gasperi, capogruppo Movimento 5 Stelle nel parlamentino Tifernate, Umbria Acque, Acque agitate anche in Consiglio Comunale, ma che cosa sta succedendo? Sta succedendo che, per come la vedo io, i nodi stanno venendo semplicemente al pettine. Umbria Acque è un carrozzone, come ce ne sono tanti altri a Città di Castello, che sta collassando su se stesso e che sta facendo collassare le spalle di una maggioranza sulla quale si è sempre basato. Umbria Acque ha causato degli enormi disservizi, Umbria Acque ha un contratto con Città di Castello che, pare, poi lo vedremo, non sta rispettando a pieno. Umbria Acque risponde sui giornali che non può permettersi di tenere aperto un punto per ascoltare, anche semplicemente fare una vultura di utenza, una persona anziana, una persona disabile, una persona che non si può semplicemente recare nella città di Perugia, sicuramente non ci si reca in treno, direi, e ci risponde che lei non può tenerla aperto perché costa 8.000 euro all'anno tenere una persona lì a uno sportello, quando però già sappiamo che nel 2017 vuole riaumentare le bollette del 5%, una cifra assurda, una cifra veramente assurda, venendo da un 2015 a un 2016 dove abbiamo visto ben due rialzi in bolletta, quindi questo del 2017 del 5%, lo ripeto, sarebbe addirittura il terzo che noi subiamo. Umbria Acque gestisce una delle risorse più importanti, non per città di Castello, ma per tutta l'umanità, insomma, l'acqua. Noi siamo fatti di acqua, noi beviamo acqua, noi viviamo solo ed esclusivamente dove c'è acqua. Ricordo addirittura una votazione, un referendum, dove gli italiani decisero che l'acqua doveva essere pubblica, per cui non capisco per quale motivo ancora è privata.